Prende solamente all'uomo questa epidemia iniziata tempo fa io mi chiedo ma perché prende solamente l'uomo questa epidemia una cosa dico che siamo più forti noi di te grazie dottori e infermieri quello che è fatto ogni giorno per noi noi vi ringraziamo sempre di più non siete soli noi più che abbiamo siete tutti uniti per noi ma tutto questo passerà grazie a voi grazie a voi grazie a voi questa guerra la vinceremo noi grazie a voi 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 tutto quello che fate fu il cuore grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi solo morì